ciao ragazzi io sono nicodin e sono ritornato con un nuovo video abbiamo ancora i premi dalla nostra weekend league quanto amo io questo giovedì ogni giovedì lo amo quando ci danno i premi per questo giochiamo al torneo e vediamo ai rivals che costa sempre il secondo penso che abbiamo fatto vabbè si zencolo massimo ok prendo questi non scambiabili si livello 2 ok va bene così abbiamo sei pacchetto ogni e se non mi sbaglio c'è ronaldo alla sfida di alla squadra della settimana si ronaldo e rushford 95 di velocità 89 di più porca miseria però ronaldo è troppo è troppo 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 forte mamma mia che poi non ho capito perché con la maglia bianca vabbè andiamo a ritirare il foot che abbiamo fatto per la seconda settimana di fila oro 2 abbiamo battuto il nostro record un pacchetto oro rari 2 mega 2 scelta e 2000 punti qualificazione 45 mila crediti fu e mo mo arriva il difficile sarà questa la settimana buona lo spero iniziamo con il primo vai germania jones meno 84 l'ultima speranza per trovare uno dei tre giocatori top della squadra della settimana che sarà ronaldo rushford e andanovic vediamo andanovic 90 signori andanovic 90 si preferivo ronaldo rushford però almeno abbiamo trovato il portiere dai almeno meglio di un altro 84 ci sta grande andanovic bello bella sta carta molto molto bella almeno se dobbiamo fare qualche sbc qualche cosa mamma mia abbiamo 9 pacchi abbiamo 9 pacchi oro maxi andiamo con show ciao 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 ho ne vuol chi ne bandierina dicco sidney è questo cielo sca mi in centro se fatti diamo se scambiabili no help Lui, si Bene, abbiamo salvato due Meglio di niente Meglio di niente Il prossimo Il prossimo ancora sarà buono Almeno spero Mal quit Dimmi che ce l'ho No Bene, faccio 30 credit Emo ragazzi Emo Oro rari Vediamo Non è Non è Ok, Germania ATT Voland No Oh, Werner Bello Il nostro Dimmo Dimmi che no L'altro mi sembra che non è scambiabile Porco il mondo Mo' vedi Mo' vedi Eh, lo sapevo io È che non lo sapevo io Dimmi che è scambiabile Non lo vuole buttare No Mannaccia Non è scambiabile il team Il nostro team non è scambiabile Mamma mia, non sapevo manco uno Porca miseria Davvero Davvero Fallo scambiabile No Porca miseria Mamma mia Una volta che trovo uno buono Porco il mondo Uno buono E non è scambiabile Eh, va bene Non poteva essere Nei marombapè Che ce l'ho già Non è walk out If Non può essere mai Ronaldo ATD 81 Oh, addirittura 78 Piazzonna Prendi la zona Ehm Ibracadabra 83 80 Beh, non mi posso lamentare Ma è di nuovo Maguire Eh, ma Mo' salvamo qualcuno Però Ora Mamma mia Gli stessi giocatori di prima Mi ha dato Che non salvo manco uno Che sfortuna ragazzi Cioè Mi fa male il cuore Buttare questi giocatori Vai Con zinco orari Un'icona ancora non ho trovato Quest'anno Eh, quindi Ma non me la da Sidney di nuovo Signore Due volte Sidney Bel pacco 79 Eh, vabbè Mamma mia Mi dispiace Mi dispiace Per ultimo Orari Non lo vediamo Sto walkout Eh Che non vedo Manco più Una bandierina Poi Almeno Questo era Scambiabile 81 Lui Emilic Allora L'ultimo L'ultimo E poi Iniziamo Con i pacchettoni Mega No Un altro If Almeno Se era World Cauti Maripan Un bel pacchetto Un bel pacchetto Dai Non è walkout Non ne manca Bandierina Perca miseria Marcos Marcos Lorente Mi ricordo Che l'ho pagato 17.000 All'inizio Gioco Quattro Doppioni E l'ultimo Mo No No Banderina Terzino Sinistro Del Piemonte 85 Alessandro Doppio 85 Oggi Nei pacchi Uno Lo verso Però Almeno Ci accontentiamo Di Alex Uuu Triplo 85 Due Qua dentro E Werner Perzo Io Non è Poteva essere meglio Più Andanovic Però C'è No Vabbè Dai Non fa niente Oii Bruce Mi faccio 300 E se lo scarto 250 50 Sì 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 Ne A me Ok Ragazzi Ragazzi Questo è stato Il video Il video di oggi Siamo stati Un po' Più Fortunati Rispetto All'ultima Volta Però Non è Ancora Quel Video Che Cerco Io Però Mi raccomando Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Così Mi aiutate anche a me a crescere E ci vediamo con un prossimo Ciao Belli Ciao